Siamo qui allo stand di Forlimpopoli di HRN con lo staff al completo, vogliamo fare un saluto e un augurio e un abbraccio ad Alessandro di Pronta guarigione, ti abbracciamo tutti quanti e vorrei che tutti quanti ti salutassero. Ciao Alessandro, vai, coraggio. Ciao Ale, non te lo dico per farti rosicare ma te lo dico perché so che ti fa piacere, è stata una cosa ed è in questo momento in corso una cosa incredibile, ci sono come potete immaginare i portavoce attorno a noi e poi ci sono delle agorai in giro, delle commissioni che raccontano quello che fanno, i cittadini sono insieme ai portavoce, c'è un clima meraviglioso di festa, di nuove idee e anche di cittadini che non volgerebbero ancora le 5 stelle ma stanno venendo qui incuriositi a informarsi e a capire perché sentono appunto che gli sta mancando la terra sotto i piedi, quindi viva tra di noi la sensazione che insomma il movimento è il più corto di prima e sta diventando sempre più coese, poi qui è veramente una folla sempre crescente e tutti che girano, che si informano, che scambiano opinioni, è veramente una grande festa, un grande clima. E' una figata pazzesca. Io sono Mario, ti aspettiamo come sempre, un augurio di cuore, siamo una comunità meravigliosa, ritorna stilla mia, ti voglio bene, ciao. Ciao Ale, ciao Uffo. Grandi.